Treni in ritardo, attese infinite e la voce automatica degli altoparlanti che ripete ci scusiamo per il disagio. Chiunque abbia vissuto scene simili sa bene quanto possano pesare le attese nelle stazioni, pause obbligate che interrompono il tran tran quotidiano delle nostre giornate. Trasformare questi momenti di noia in gustosi break culturali è l'obiettivo di Take Your Time, il progetto ideato dagli artisti bitontini Filippo Modugno e Liliana Tangorra e vincitore del bandopin della regione Puglia. Lo scorso 29 gennaio infatti nella stazione centrale della ferrotranviaria di Bari, dopo la performance teatrale Ci scusiamo per il ritardo dei fatti d'arte, è stato installato il primo dispensatore automatico di racconti di Puglia. Tra i racconti distribuiti da Take Your Time anche scritti originali di autori di diversità e nazionalità che negli scorsi mesi hanno presentato le proprie opere nelle cinque sezioni proposte in un open call, ragazzi, avventura, romantico, humor, poesie e teatro. A curare il design del distributore e tutto il suo apparato elettronico e meccanico è stato un team di giovani collaboratori del Fab Lab Poliba di Bitonto, guidati dal professor Nicola Parisi, direttore del Fab Lab e docente del Politecnico di Bari. Giovani informatici, architetti, dottorandi che hanno reso possibile la realizzazione materiale di un progetto culturale, tanto più prezioso perché è venuto alla luce in un momento di estrema difficoltà per il mondo dell'arte. Take Your Time è il frutto di un lavoro realizzato con sinergia di forze ed intenti, volti a dimostrare il valore di una pausa culturale in un mondo che corre e dimentica troppo in fretta.